Salve a tutti! Ancora la storia dei Santi e ancora perché, se non lo aveste capito, la storia della Chiesa è storia dei Santi e in questo caso dei Santi del mondo laico. E in questa storia di una Chiesa santa e laica troviamo il medico santo napoletano San Giuseppe Moscati, uomo veneratissimo a Napoli, che nacque a Benevento il 25 luglio del 1890, quindi alla fine del XIX secolo, figlio di un magistrato che poi però si trasferì a Napoli. Ricordiamo che c'è sempre nei Santi e in Giuseppe Moscati ci fu un momento di rottura con le tradizioni e le culture familiari. Quando nel 1897 Giuseppe dovette scegliere che cosa studiare all'università, scelse medicina rompendo la tradizione familiare anche del nonno e del misnonno della giurisprudenza. lo disse poi lui stesso che aveva scelto medicina perché dalla finestra di casa sua si vedeva il famoso ospedale degli incurabili di Napoli. Oggi un ospedale che non è più ospedale, è un sito monumentale che sta vicino al decumano superiore di Napoli. Nel 1903, inizio secolo XX, Giuseppe si laureò in medicina, non possiamo dimenticare la storia. Egli stesso ebbe a dire che in quel periodo travagliato la sua facoltà di medicina insieme alla facoltà di filosofia era quella facoltà dove maggiormente circolavano le tesi del materialismo. In Italia erano gli anni della Belle Epoque, erano gli anni del predominio del socialista anticlericale Giolitti, gli anni della lunga preparazione di Benito Mussolini alla fondazione del partito fascista, ma era anche il 1903, fu anche l'anno della elezione di Pio X con la sua coraggiosa e drammatica lotta contro il modernismo nella Chiesa, cioè contro i principi del materialismo inseriti o presuntamente colleghi dei principi cristiani. Giuseppe Moscati, l'8 aprile del 1906, quando ci furono le prime fasi dell'eruzione del Vesuvio, come tutte queste eruzioni, un fatto drammatico, si distinse molto perché corse a Torre del Greco mettendo in salvo molti malati e non volle per sé nessun encomio, benché lo meritasse. Poi lo troviamo di nuovo molto attivo nell'epidemia di colera del 1910-11, che lo vide molto impegnato e come è avvenuto da noi recentemente per la pandemia proveniente dalla Cina, anche allora il governo di Giolitti tentò di mistificare la realtà e di nascondere l'epidemia del colera, nonostante fosse stato sollecitato da alcuni medici americani che avevano scoperto il colera preoccupati soprattutto del gran numero di persone che si imbarcavano dal porto di Napoli per andare a New York. D'altronde Giolitti si preparava allora a invadere la Libia, l'ha invasi nel 1911 e quindi era assolutamente indispensabile che l'Italia avesse come dire un appeal positivo di fronte al mondo internazionale. Giuseppe Moscati grazie agli studi che fece vinse un concorso che gli procurò un contratto definitivo all'ospedale degli incurabili e anche la libera docenza universitaria. Assunse anche una specializzazione all'Istituto di Anatomia Patologica nel 1925 e le cronache raccontano di come egli istruiva i suoi studenti, giovane lui, giovani gli studenti a fare le autopsie di fronte a un crocifisso davanti al quale mentre operava diceva sempre la famosa frase latina o mors ero mors tua, o morte sarò la tua morte, è il Cristo risorto che parla. Giuseppe Moscati uomo di studio, intelligente, instancabile, uomo di fede e di preghiera, laico di fede e di preghiera, uno di tanti esempi di come e perché la fede e la scienza non possono camminare separate, di quanto sia assurdo volerle separare sulla base di leggende nere della storia. Quell'uomo, quel laico Giuseppe Moscati anzitutto poteva diventare ricco perché era un gran bravo medico e nella Napoli di allora poteva preoccuparsi della Napoli bene, ma non lo fece. Al processo di canonizzazione molti testimoniarono la sua gratuità, il fatto che gli andasse gratuitamente a visitare tanti malati nei soborghi di Napoli, quelli più poveri, quelli più sudici, oppure aveva la delicatezza di farsi pagare e poi recapitare indietro tramite un altro la somma che gli avevano dato. Due pazienti abbastanza celebri, lo dico perché un po' di gossip va bene, furono suoi pazienti, uno fu Enrico Caruso, il famoso tenore napoletano morto nel 1921 a Napoli, l'altro fu Bartolo Longo, il fondatore del santuario di Pompei, che Moscati assistette a Pompei fino alla mattina della sua morte, avvenuto il 5 ottobre 1926. Il centro della spiritualità di Giuseppe Moscati fu la chiesa, il centro geografico, la chiesa del Gesù Nuovo, oggi retta dai Gesuiti, vicino alla casa dove viveva con la sorella Nina Moscati, anche essa se porta lì. Giuseppe vi fu portato tre anni dopo la sua morte, morì il 12 aprile 1927 a soli 47 anni. È una chiesa molto bella da visitare, a due passi da Santa Chiara, una chiesa storica tenuta dai Gesuiti dove la tomba di Giuseppe Moscati è meta di continui pellegrinaggi e tra le tante opere che mi è capitato di incontrare preparandomi ho scoperto che a Casoria, che è un piccolo centro nella provincia di Napoli, esiste appunto un ambulatorio intitolato a Giuseppe Moscati che è totalmente gratuito ed effettua circa 2000 visite gratuite all'anno con medici assolutamente volontari. Una metafora che si riporta di Giuseppe Moscati è la seguente che gli avrebbe detto, il muro non sarebbe crollato ma tutti avrebbero visto il buco. Che cosa voleva dire Giuseppe? Che le nostre opere non sono onnipotenti perché è Dio che fa tutto ma se non ci fossero Dio non potrebbe neanche agire nel mondo, quindi agisce attraverso di noi, quindi il muro non sarebbe crollato senza le nostre opere ma senza di esse tutti avrebbero visto il buco. Nel pieno della sua maturità Giuseppe Moscati nonostante fosse un bell'uomo scelse di rimanere celibe senza però consacrarsi a livello religioso come fece poi un altro santo medico vissuto nel nord Riccardo Pampuri morto nel 1930. Giuseppe fu un genio delle relazioni non per una particolare capacità comunicativa ma per la grande santità che appassionava la sua vita. L'amore per Cristo era il fondamento di tutto e le cronache dicono che le sue più frequenti visite erano al famoso Cristo velato che si trova a Napoli nella cappella San Severo, quel Cristo velato che ricorda il velo con cui Cristo fu, la sindone con cui Cristo fu ricoperto prima di risuscitare. Furono tre i miracoli di guarigione che portarono prima alla beatificazione poi alla canonizzazione. Quello di Costantino Nazaro, un maresciallo in pensione dei carabinieri che guarì dal morbo di Edison dopo una novena sulla tomba di Giuseppe nel 1954. Quello di Raffaele Perrotta che guarì da una meningite cerebro spinale e l'ultimo quello di Giuseppe Montefusco che rappresenta la canonizzazione di Moscati, qui fu la mamma di Giuseppe Montefusco a recarsi spesso al Gesù nuovo ottenendo una guarigione inspiegabile da una leucemia acuta. Grazie a tutti dell'ascolto, alla prossima.